Roberto Piazza finalmente si riparte questo ritiro dell'Alliance Power Volley Milano per la stagione 2020-2021 ci voleva perché c'è tanto entusiasmo nel ripartire nel ricominciare a lavorare nel tornare a lavorare hai detto già tutto tu quindi l'unica cosa che posso aggiungere è che la voglia della ripresa che io ho percepito dai giocatori è qualcosa di veramente unico e per quelli vecchi credo dipenda anche dal fatto che abbiamo lavorato un anno scambiandoci tante tante cose e definendo alcuni obiettivi che poi non sono stati concretizzati per tantissime ragioni per cui siamo partiti da quel momento mentre invece i nuovi vedo che hanno grande voglia grande desiderio di integrarsi con i ragazzi con i compagni per cui il ritiro viene proprio ad hoc nei giorni scorsi il presidente Fusaro ha parlato di una squadra ricca di talenti questi talenti sono arrivati dai giocatori importanti del calibro di Patry di Mar di Chicago all'esperienza di Daldello e giovani interessanti come Mosca e due prodotti del settore giovanile talenti che sono in mano ovviamente adesso all'allenatore che come ha già dimostrato saprà valorizzarli nel modo giusto io dico sempre che quello che è stato fatto fa parte del passato noi dobbiamo guardare il futuro e abbiamo allestito un gruppo adesso e questo gruppo deve diventare squadra l'anno scorso siamo riusciti a costruire una squadra straordinaria si era formato veramente un team di lavoro credo unico con una magia particolarissima dovremo essere bravissimi anche quest'anno nel riproporre questa cosa cioè far diventare il gruppo di giocatori che abbiamo ricco anche di talento perché se no i ragazzi non avessero talento di sicuro non potrebbero essere arrivati a questo livello già adesso però il gruppo deve diventare squadra questo è il mio compito e non mi stancherò mai di dirlo il merito di quello che è successo l'anno scorso è dei giocatori io ho solo tracciato loro la squadra ma loro sono stati bravissimi a seguirla durante il lockdown Roberto tu hai parlato di una pallavolo diversa che sarebbe stata probabilmente quella che andremo a raccontare andremo a vivere come ti immagini visto che adesso si riparte questa nuova pallavolo intanto mi immagino che il nostro sport finalmente possa riprendere con dei protocolli chiari che ancora non sono usciti ma che dovranno uscire a breve però intanto il nostro sport deve ricominciare a vivere a vivere a farsi vedere dobbiamo ricominciare a giocare quindi mi aspetto che tutti insieme facciamo uno sforzo per arrivare a far presente all'Italia che la pallavolo è uno sport che è uno sport che merita attenzione sicuramente non ai livelli del calcio ma la sua nicchia se la può ritagliare Milano a Cuneo Cuneo per Roberto Piazza è comunque una città che evoca ricordi Cuneo è una bellissima piazza dove poter stare dove poter vivere una città meravigliosa non quanto Milano perché Milano ha tutto e di più credo che sia per me la capitale vera dell'Italia a livello economico sicuramente Cuneo è una città particolare una città dove si vive benissimo molto simile a dove sto vivendo in questo periodo per cui dall'altra parte del nord Italia quindi al nord est è una città che è a misura d'uomo che ha vissuto una grandissima pallavolo e che per tantissime ragioni non è più in Superlega ma vedo che sta piano piano riprendendo quota erano in a tre l'anno scorso quest'anno hanno preso la due coraggio insomma secondo me Cuneo tra qualche anno ce la ritroveremo di nuovo a essere protagonista nel campionato massimo di Superlega da Cuneo a Milano che sarà poi il ritorno dell'Allianz Power Volley dopo ovviamente il ritiro per una stagione che da questo punto di vista ha dei punti interrogativi ma che sicuramente necessita di affetto di attenzione di fiducia da parte di quello che è una componente fondamentale che è il pubblico giocare fare spettacolo comunque in campo senza pubblico sicuramente sarà un dispiacere da questo punto di vista è molto importante la presenza degli spettatori credo che ci sia anche da coinvolgerlo il pubblico non soltanto per farlo venire a vedere le partite all'interno del palazzetto perché se all'inizio non si potrà fare non ci possiamo fare nulla però dovremmo essere bravi nel coinvolgerlo con tante altre attività credo che la forma che era stata trovata l'anno scorso con l'ICS era una forma straordinaria e dobbiamo portarla avanti e credo che si debba andare alla base quello che ho sempre ripetuto durante il periodo di lockdown appunto nel coinvolgere il più possibile la base appunto nel cercare di sviluppare il proprio interesse nei confronti della Superlega Milano è una casa straordinaria credo che sia il più bel palazzetto d'Italia in questo momento dove poter giocare siamo fortunati di avercelo noi e in questo momento lo dobbiamo fare fiorire Roberto l'ultimissima considerazione nonostante le difficoltà legate al covid la Superlega ha dimostrato l'Italia il campionato italiano ha dimostrato di essere comunque uno dei più appetibili e appetiti da parte dei giocatori sono rimasti comunque fior di campioni certamente è un campionato seguito in tutto il mondo sono rimasto in contatto con tantissimi allenatori durante questo lunghissimo periodo di inattività chiamiamola così che è stata un'inattività dal punto di vista fisico ma sicuramente non mentale dove ci si è confrontati e come dicevo appunto i miei colleghi tutti guardano il campionato italiano con un occhio di riguardo se lo guardano gli allenatori a maggior ragione lo guardano anche i giocatori Roberto io ti guardo negli occhi e vedo l'entusiasmo di una stagione che si prospetta comunque avvincente diciamo che oggi abbiamo cominciato a settare le gomme adesso bisogna mettere a posto il motore grazie a tutti